ciao amici youtube bentornati in questo nuovo video è arrivata appena coni nuova regione su un kite star rail con un sacco di personaggi io mi sento pazza in questo momento perché avevo detto che black swan tirava una multa e andavo a diritto ma ho fatto la quest della prima parte della nuova patch l'ho finita tutta e mi sono innamorata di ogni singolo personaggio anche di quelli che avevo detto così a occhio mi piace meno non lo pullo una e lei che non è che non mi piacesse però avevo dato priorità ad altri bene eccoci qua io sotto una quindi la proviamo a prendere e miscia mi manca e tingyune 6 da fare me ne manca una e guan e fan ce l'ho e uno quindi vabbè come va va sono pt 33 50 e 50 da vincere se lo vinco non vado sull'arma non vanderò sulla light con in nessun caso perché arrivano troppi personaggi che mi interessano se lo vinco sono contenta se lo perdo provo a tirare qualche altra multa e abbiamo 101 pull da parte più stall critter eventualmente utilizzabili quindi vediamo comunque vi auguro buona visione e al termine le mie pull ci saranno quelle di chi ha pullato insieme a me in questi giorni per black swan quindi divertitevi e alla prossima quindi mani unite in preghiera per lei soprattutto una suora quindi pregate per me allora io faccio la prima singola che è questa per andare a 34 prima singola questa qua che tanto non so nemmeno se potrebbe uscire un 4 stelle quindi non la schippo giusto per così perché prima l'ho schippata una in un altro account e ho schippato un 4 stelle che era anche importante quindi evitiamo vabbè 3 stelle ok bene siamo a pt 34 adesso facciamo multi fino al 5 stelle e anche multi al 5 stelle perché siamo già a quello giusto quindi bravi voi blessate e noi andiamo a pt 44 4 stelle ok e vanno bene tutti loro vanno bene tutti gli altri c'è no alcuni che sono tipo e 3 quindi da portare e 6 però non me li ricordo sul momento quindi quando li vedo so se li ho già fatti e 6 o meno e ve lo dico nel caso quindi vediamo chi abbiamo in questa prima multi allora e 6 ok l'abbiamo fatta e 6 ci sono voluti letteralmente tutti i banner in cui l'hanno messa per farle sei 500 anni va bene d'ora in poi le mie thingyoon saranno tutte star glitter sono molto 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 contenta perché perché molto forte thingyoon quindi grazie grazie molto bene sono contenta questa l'abbiamo finita e adesso speriamo di andare sugli altri due anche se lei saranno tutte pull e quindi non è male per me questo è un banner molto buono motivo in più per cui ho deciso di pullarci anche se all'inizio ero un po interdetta perché tutti i personaggi erano da fare o e sei o mi mancavano quindi la trovavo molto interessante 54 vediamo 4 stelle allora c'è da dire che io early è un po che non trovo niente in questo gioco ho avuto uno sculo micidiale lo ricordo sempre con blade che mi è uscito blade dalla prima multi e la light con dalla prima multi due multi avevo finito e quindi da quel momento il gioco mi fa un pochino più sudare ora è passato un po di tempo gioco si potrebbe anche un po salve io sono sempre felice quando vedo quest'uomo anche se onestamente ormai è un po che io non lo utilizzo però ci tengo a dire per chi non mi conosce o chi è nuovo chi sta vedendo il video e non ha mai visto il mio canale eccetera che io quest'uomo nel primo banner in assoluto in cui ho pullato quello di silly ho fatto la sua light con r5 non si sa come quella 4 stelle ovviamente non si sa come ma adesso abbiamo garantito un personaggio il banner se non altro e preferisco trovare altre copie di altri personaggi piuttosto che le light con quindi mi sento comunque contenta ok singolo preciso metà molti tra l'altro e andiamo a 64 e lo è diventato tutto buio ok 4 stelle vediamo ragazzi non si può non essere felici quando si vede da nenga io quell'uomo boh smuove cose mettiamola così allora vediamo chi ci accompagna adesso ecco ora si inizia ora si inizia vabbè pull va bene perché arriva troppa gente importante quindi va benissimo pull vediamo se è accompagnata comunque ci stiamo avvicinando all'inizio della multi quindi teoricamente teoricamente adesso in una delle prossime multi deve essere doppio 74 ok la prossima è la multi è 5 stelle quindi poi per la prossima c'è un attimo da metabolizzare ora intanto andiamo qui vediamo quali quattro stelle abbiamo prossima dovrebbe essere il quattro stelle o al massimo quella dopo ok quella dopo il quattro stelle che è day one of my new life che ho r non so quanto vediamo se è accompagnato l'altro quattro stelle ce lo meritiamo su via ok no va bene allora ragazzi questo è il momento ulti del 5 stelle let's go p di 74 5 stelle se non altro non bisogna andare oltre perché sarebbe stata una tortura bisognava andare a 84 oltre piangevo dai 5 stelle vediamo 75 subito siiii subito 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 evviva che bello sono contentissima subito 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 1 la prossima è il quattro stelle 2 ok una meglio delle ting yun quindi ok 3 4 5 6 7 8 e 9 ok liscia allora allora visto che l'abbiamo vinto sono molto contenta però non mi è uscito miscia come sempre faccio le due multi salvagente così torno a pt30 che è quello di partenza perché sono a pt9 in questo momento quindi faccio due multi arrivo a 29 e quindi siamo intorno a pt30 e mi fermo quindi se dovesse uscire early qualsiasi cosa che sia una copia di lei o il 5 stelle è gg oltre il 30 per me sono prime agents buttate al momento seller jade insomma visto che poi arriva anche sparkle che mi piace quindi tiriamo soltanto altri due multi per vedere se appunto dovesse uscire il quattro stelle nuovo se no pazienza uscirà più avanti tanto vi ho detto non l'avrei buildato però se me ne esce uno sono contenta allora la scommessa avete già resa perfetto non c'è da fare scommesso ora due multi allora siamo a pt9 lo so da un po fastidio poi tirerò al massimo l'ultima singola siamo a pt19 pt19 ok liscio dai un miscia qui se mi esce miscia in questa potrei addirittura pensare di fermarmi direttamente così almeno tengo se mi esce un miscia qua si può avere un miscia? no ma dammi un doppio 4 stelle 33,3% periodo e sia miscia yes top top ce l'abbiamo perfetto perfetto abbiamo lui abbiamo lei come si diceva prima lui che bacia a lei che bacia a lui che bacia a lei perfetto ok e miscia ce l'abbiamo molto bene quanto sono rimaste in totale sono rimaste 40 più 32 ok comunque nel frattempo ultima multi di oggi pt29 andiamo perfetto liscia ci siamo alzati il pt top se esce guanai fan o miscia sono costellazioni se esce tingyun sono pull e siamo soddisfatti soddisfatti e pronti per prendere sparkle vediamo chi abbiamo top andata ci sto e uno di miscia se mi denco una guanai fan è gg proprio ma sto a posto una light cone va benissimo così ci garantiamo il 4 stelle per il bundle prossimo e quindi potrebbe essere ania che mi manca io sono a posto il mio l'ho dato il content c'è stato ma ma non è finita qui perché io ho queste le di quelli che mi piacerebbero allora facciamo le due singole il 4 stelle quando è uscito ha ora fraschium quindi va bene non esce in queste due singole andiamo siamo a pt13 questo è pt14 e questo è pt15 bene ok andiamo a 25 ma un early pt nel bundle permanente no però se mi vuoi dare uno dei 4 stelle che mi mancano ne saremo comunque felici vediamo io ve l'ho detto che questo mi ama il t-hat diventa arcobaleno quando rotea è un po' impercettibile se non è abituato vabbè io ve l'ho detto questo mi ama quest'arma è la seconda che porto refa in 5 non non sì questa la devo costellare ve l'ho detto Natascha ve l'ho detta top lei la devo costellare ve l'ho detta è una di quelli che non ho finito di costellare Natascha quindi promossa ok tiriamo l'altra multi andiamo a 35 vediamo se c'è un early pity magico 35 4 stelle niente niente biglietto arcobaleno quindi vediamo allora 4 stelle dovrebbe essere abbastanza a fine multi perché Natascha è uscita per penultimo o terz'ultima nella multi e è la E5 non l'ho finito ancora quindi GG ma io ve l'ho detto che quest'uomo mi perseguita io non lo so io non lo so cosa fare riesce solo o meglio è solo la sua light cone perché io lui e 6 non l'ho mai portato vabbè vabbè a sto punto mi puoi dare anche l'ultimo così facciamo il 6 poi diventano pull d'ora in poi dai ma io volevo facciamo una cosa ora se non mi escono altri 4 stelle ok non è uscito basta dance 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 è uscito due volte anche questo ok no perché se non usciva tiravo una singola quando il matrimonio non me lo chiede proprio oggi Sersi oggi è il compleanno della night time posso parlare di matrimonio con altri uomini il giorno del compleanno con mio marito subito subito let's go ora come minimo non c'è in questo ok c'è ce l'abbiamo doppio black swan eh cioè se voglio darmi il doppio anche qui dai speriamo sia lei speriamo sia lei che si tira subito un bel suspiro sollievo avevo dimenticato la musica delle pull oh grazie oh dio che ansia eppure no le volpi la multi federica tutte le furri dai dai questo terra è fortissimo oggi prova si la multi federica furri 1 furri 2 la multi federica io non ci credo perché non è neanche in ritappa la yukong non ce la faccio ma che bello bellissimo 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 meglio anche che ho tirato la multi non le singole cioè in realtà no sarebbe successo lo stesso però sì però 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 non ci lamentiamo noi non ci lamentiamo ebbene che bello sono troppo contenta abbiamo fatto talmente veloce ma talmente talmente veloce che possiamo andarcene ciao è finita la live è stato un piacere e ci vediamo la prossima volta quindi no scherzo ok adesso torniamo seri torniamo a noi cantando la mannoia nella testa aia 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 vabbè intanto c'è intanto c'è perché non è nemmeno questo scontato ora vediamo se la fiorella va meglio la fiorellona ma riposa let's go dai 65 66 oh si si spring top 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 la fiorella ma noia un altro cosino su miscia dai fedi alla grande meglio di così non poteva andare top 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 veramente dai vinto tutto io l'ho detto prima di lanciarla doppio ma non ci credevo ma sono una leccia cosa succede qui ragazzi ma non è normale 5 stelle 5 stelle 5 stelle ce l'abbiamo 5 stelle ce l'abbiamo vi alzo letteralmente il volume è basso ecco 5 stelle subscribe for more ok questo era 71 72 73 74 erli però mancava però mancava aveva detto che voleva bronia e voleva chi era l'altra bailo quindi penso sia contenta alice aspettate cerchiamo di capire alice sei contenta perché mi sembra contenta perché io l'ho scritto l'ho visto che in chat si daie penso che sia contenta sono felice a bestia abbiamo le prove abbiamo le prove pt 40 vediamo se alice verrà assistita alla divina provvidenza dall'alto ci siamo 5 stelle ce l'abbiamo ce l'abbiamo grazie chiami per il follow ce l'abbiamo la divina provvidenza ora c'è da vedere il pt preciso però erli ce l'abbiamo ed è lei ed è lei per forza eccola ok vado 5 stelle ticket arcobaleno ci siamo 5 stelle c'è 5 stelle c'è dai 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 65 ok 66 67 yes e ora ci portiamo a casa la signorina Bailu quindi ce l'abbiamo fatto oggi traguardo importante con Bailu e Bronia Ali ha finito i 5 stelle del permanente qui qui qui